Due nuovi tratti di fognatura a Borgo Ricco. Il cantiere, consegnato il 5 settembre scorso, prevede la realizzazione di nuove opere che saranno effettuate in via Sant'Antonio, via Fratta e via Croce Ruzza. La nuova rete servirà 46 utenze per all'incirca 138 abitanti, che attualmente riversano i propri reflui in alcune vasche con conseguenze negative sugli aspetti igienico-sanitari e ambientali della zona. Un'area che confluisce direttamente nella laguna di Venezia. L'investimento è compreso all'interno del piano d'ambito del bacino del Brenta e ammonta 570 mila euro finanziati con la tariffa del servizio idrico integrato. La fine dei lavori è prevista per l'inizio del mese di febbraio del 2020. Verranno posati due tratti nelle vie di Sant'Antonio della lunghezza di 156 metri e nelle altre strade interessate al progetto di circa 500 metri. I lavori così permetteranno di intervenire anche su alcune condotte di distribuzione idrica in cemento amianto che saranno sostituite con nuovi tubi. Un importante lavoro che consentirà di diminuire 3 tonnellate di carico organico, 500 kg di azoto e 61 di fosforo ogni anno sottratti all'ambiente.